E' morto a Locri dove si trovava in vacanza dalla famiglia Maurizio Dettore, sarebbe stato colto da un malore inutile, i soccorsi. Aveva 64 anni, giurista, professore universitario, era presidente del Garante Nazionale dei Diritti dei Detenuti. Dopo una lunga militanza ad Arezzo in Forza Italia, dal 2021 il passaggio a Coraggio Italia, con cui assieme a Stefano Mugnai aveva concluso l'esperienza da parlamentare. Poi, dal 2022 faceva parte di Fratelli d'Italia. Ad Arezzo è stato indubbiamente protagonista dell'ascesa del centro-destra. Qui lo sentiamo festeggiare il secondo mandato di Alessandro Ghinelli. Cinque anni sono stati importanti anche per reperire risorse, per metterle e ora impiegarle. Già sono state impiegate, ma nei prossimi cinque anni, come il sindaco ha detto nel suo programma, non è utile qui ripeterlo, saranno soprattutto sulle opere pubbliche molte realizzazioni importanti per lo sviluppo della città. Tanti i messaggi di Cordoglio. Il primo, quello del guardia sigilli Carlo Nordio, che ha ricordato con commozione l'integrità morale e la grande preparazione intellettuale. A noi mancherà soprattutto l'amico, affermano in una nota i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia, tra cui l'aretino Gabriele Veneri. Con lui abbiamo condiviso tanti momenti di simpatia, il sogno che in molti casi è diventato realtà di scrivere un futuro diverso per la provincia di Arezzo. Lo hanno ricordato in queste ore anche l'amico ed ex parlamentare Stefano Mugnai, Bernardo Mennini, attuale segretario provinciale di Forza Italia, Francesco Macri e ancora Renato Brunetta, Ignazio Larussa e la deputata di Italia Viva, Maria Elena Boschi. Nota di Cordoglio, anche da parte del PD a retino, è stato un avversario politico di rara competenza. La politica a retina e nazionale perde un esponente di rilievo. Alla famiglia le condoglianze anche da parte della nostra redazione.